0-0 della Juve Stabbia contro la Casertana nel derby Beretti qui allo stadio di Castellammare di Stabbia abbiamo appunto ascoltato il man of the match di quest'oggi che è stato Domenico Ceparano se l'è giocata proprio sul filo del rasoio fino all'ultimo anche il capitano Gigi Diomeuta ce l'abbiamo qua, ciao Gigi. Buonasera Ciro. Gigi innanzitutto ben ritrovato, partita importante quest'oggi contro la Casertana un momento nel quale bisogna un attimo riorganizzare le idee per le tante sessioni che ci sono state però avete comunque disputato un ottimo match. Sì è stata un'ottima gara comunque giocata in tre belle parti difficile comunque gara perché si è sentita molto la mancanza di Chirullo che è andato via però dobbiamo farne una ragione alla fine quindi dobbiamo fare di tutto per riprenderci comunque il gol e tutto il resto A proposito di gol, io e te abbiamo una scommessa che va avanti da più di un anno bisogna che questo gol da parte tua arrivi? Speriamo, spero proprio che non sei tu la mia sfortuna però vabbè però intanto nei primi sei mesi io non c'ero ancora Ci proverò la prossima partita Prossimo match con il Lecce ecco testa al Lecce tornando per un attimo serie quello è un match importantissimo anche perché dopo il pari di oggi si rischia di far accorciare un po' la classifica speriamo di trovare un impatto importante in un match altrettanto importante si giocherà ancora una volta qui al Menti Sì, un match molto importante noi guardiamo partita per partita e quindi pensiamo solo alla prossima quindi contro il Lecce, questa è azzerata Grazie Gigi Ciao Ciro